In questo episodio... Toccolata! Quante cose al mondo puoi fare Costruire Inventare Ma ragazzi lo sapete che va proprio caldo Oh, mo si! E se invece si dividivano le acque... Oh, mo si! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo e primo video Dal mille... dal 40 punto... C'era ancora la reggimesa Elisabetta E' vero, c'era ancora lì E poi tra l'altro adesso non c'è più Lì guardavi i miei video Lì guardavi i miei video Provincia di Avellino Provincia di Avellino Provincia di Avellino Tra Avellino e Benevento Per me è la seconda volta che vado Questa Michael per la prima volta Fabio la prima volta Francesca che non si vede Poteva stare a lavare i piatti Ma invece è venuta con lui Esatto Però purtroppo c'è una mano monca e non può partecipare Meglio monca che manca E poi dietro abbiamo quello scavisacani Ma come lo vogliamo chiamare No no, sei andato avanti Abbiamo avanti Loco Lui è Loco Sordo No ripallo Cenzino umalamente Salve Tra l'altro si chiama Leonardo Ma non ho ancora capito il perché lo chiamano Cenzino E poi abbiamo Gnogni Luigi Gnogni Lo vedremo tra l'altro In questo taglio In questo taglio Adesso Lo state vedendo adesso E qua metti una bella foto Poi c'è Gnogni Lui è Gnogni Lui è Gnogni E' il Cornetto E niente Questa è la giornata Cap Facciamo il club Facciamo il club Facciamo questa magia Club e siamo in pista 3 2 Aspetta Aspetta Fammi finire la curva Aspetta Tutti insieme Siamo pronto Siamo arrivati Vai 3 2 1 Siamo arrivati 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora siamo praticamente di ritorno Sì No, andiamo a mangiare No, andiamo a mangiare A dove? Burger King? Burger King A Bucche King A Benevento Niente Che dire di questa esperienza? Sanchi ma felici Ma io sono visto Io sono rosciolato a terra come una cozza che non voleva stare su uno scoglio Possiamo anche dire che... Per la prima volta che sono stato in pista Sono arrivato qua Ok, un'ottima prestazione la tua Ma dobbiamo fare i complimenti al migliore in pista No, vabbè Ok, ecco il nostro guido Il nostro slate Non sono nessuno Ma lui è nato Con il best time ever Il 49,5 49,5 È stato veramente soddisfacente Beh, che dire Allora, niente Adesso andiamo a mangiare Comunque Un ringraziamento speciale Va alla nostra Francesca qui dietro Che Che non fosse per lei Oggi andavamo a casa senza video Senza foto Senza niente Quindi Cioè, fatti vedere Prenditi i complimenti per favore Grazie, grazie Veramente Da riconoscere questa cosa La volevamo pure lasciare a casa A lavare i piatti Capito? E invece Potrei dire Michael, tu rimani a casa A lavare i piatti Posso restare io Perché se ne francesca A fare i video Esatto Potrebbe succedere tranquillamente Poi c'è Filippo Filippo Vuole essere salutato Ciao Filippo Un abbraccio Il nostro caro amico Che purtroppo Non è potuto Lo spettiamo sulla moto Per forza Purtroppo non è potuto Essere dei nostri Salutiamo anche Andreina Che sta Sarà sicuramente Con lui A vedere il video Mi auguro Che altrimenti La scomunico Direttamente Faccio E quindi Pure io Mi sa che Spero che questi video Ritorneranno Con più Frequenze Più frequenze E questo video Ti auguro Per tutti gli altri Che riescono Ad essere più costanti Insomma Presente sul canale Allora niente Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao